Sempre più vegetariani e vegani e in generale sempre più persone che fanno più attenzione alla salute quando mettono i prodotti nel carrello del supermercato. Secondo gli ultimi dati diffusi da Airai, in Italia il mercato dei prodotti salutistici ha registrato una crescita su base annua del 24,5%. Il mercato sta avendo un'esplosione importante, figlio delle nuove tendenze, figlio di una nuova cultura che si sta rinnovando in moltissimi consumatori. Al di là dei consumatori specialisti come vegetariani e vegani, oggi veramente rileviamo il fatto che moltissimi consumatori sono molto intenti all'ingredientistica dei prodotti, agli apporti proteici, calorici. Sempre più vegetariani, ogni anno si moltiplica la percentuale anche in Italia. Sì, si stimano nel 2015 7 milioni e mezzo di consumatori che supereranno abbondantemente gli 8 milioni. Poi oltre ai vegetariani ci sono le nuove fasce che sono i reducitariani, i flexitariani, tutta una serie di nuove tendenze alimentari.